Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Ciao! Pensavate che dicessi buonasera risoltisti gialli e invece ho detto ciao! Ben tornati qui dalla vostra Alessia Sorgato e dal nostro caro ospite che si autopresenta. Ciao a tutti e allora anch'io perché se no mi distinguerei dalla nostra carissima Alessia. Sono Francesco Barrio Dasso che dopo aver trascorso oltre 40 anni al mondo dell'economia e della finanza ha detto basta perché gli stava troppo stretta e se mi permettete posso dire hanno vinto gli altri rispetto. alle mie idee e quindi io come me mi hanno chiesto in una giornata così spensierata alcuni giornalisti se era più semplice scrivere un romanzo giallo di economia e finanza io ho risposto sicuramente è più facile scrivere un romanzo giallo. Allora hai già partito con la diligenza più veloce c'è proprio un frecciarossa questo uomo bene però ci hai tolto abbastanza le castagne dal fuoco così abbiamo già iniziato a porre le basi di chi è Francesco la sua doppia non personalità ma doppia mansione Miss Dottor Giacchia Miserai Eh tipo 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 Verrebbe da dire ma allora ma perché Francesco Oddasso non scrive romanzi gialli ambientati nel mondo della finanza visto che la conosce così bene? E questo non è proprio vero perché nel secondo e neanche nel terzo romanzo c'è solo qualche riferimento Quando noi scriviamo noi autori non so perché ci togliamo i sassolini dalle scarpe Io quando mi sono trovato a fare Mente Locale siccome si sarebbe dovuto sviluppare per esempio il primo romanzo e non mi è parso vero di non prendere il giro in un mondo dell'università dove da giovane di studio ho passato i primi anni come assistente in un'importante università di Milano così non faccio il nome e il cognome Ah di Milano perché tu sei di origine non milanese No io sono nato a Roma e poi sono stato adottato da Milano dall'università ho trovato l'amore a Milano e quindi dove potevo se non rimanere a Milano Ok adesso abbiamo capito dove la radice è andata ad attecchire Però il cuore ovviamente è a Roma perché se tu fino all'età della tua maturità rimani a Roma vivi a Roma e Roma rimane nel tuo cuore quindi principalmente tutti i miei romanzi gialli sono ambientati a Roma e poi vago 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 nel mondo E ci arriviamo ci arriviamo perché se ci fosse Mazzavillani che è qui con noi solo in pectore e oggi lui ama moltissimo chiedere quale sia il rapporto con Milano e il rapporto con i luoghi in cui ambientate voi autori che noi ospitiamo i vostri romanzi ma ci arriviamo tra un secondo perché io intanto vi faccio vedere la copertina di quello che ho letto che si intitola Il tocco del ragno è una copertina bellissima che ti viene voglia di dare una sciaccata e dire questo qui l'ho preso che sembra quasi pericoloso è un violino? Non lo so il mio grafico non ha voluto dirmi dove l'ha pescato dove l'ha trovato perché è geloso in maniera direi quasi spaziale delle sue idee e quindi non si confessa che devo fare Ecco vabbè nel dubbio che sia un violino lo mettiamo un attimo qui e ci prendiamo le distanze dalla racnide Certo Questo abbiamo letto nella prima e nella seconda pagina dopo la copertina che è ben 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 il numero Cinque Cinque Ma anche gli altri contengono la bestiola nel titolo Certo Certo E abbiamo Aspetta che qua ci sono gli appunti Sono tornata a fare gli appunti Però poi io li so a memoria Vuoi che lo dico io? Beh Farfalla Farfalla Cobra Poi abbiamo pipistrello Poi mantide E infine ragno Quindi sei partito con un animale gentile Sì Leggiadro E stai salendo di tono Quindi è ufficiale questo è un violino Dopo la mantide Non potrebbe essere Perché questa scelta zoofila? Perché all'interno dei miei romanzi c'è sempre un riferimento al titolo Però possiamo svelarlo Se non poi dopo scusami No perché l'animalino L'animalino Ah beh l'animalino E qui bisogna noi Identificarsi con qualcosa Quando entriamo in una libreria Quando entriamo in una libreria ragazzi O ragazze Sapete che abbiamo quanti volumi E quanti autori conosciamo? Forse quelli che vendono milioni di copie perché scrivono a Los Angeles o New York in Virginia Ma noi autori italiani Diciamo così che abbiamo 60 milioni di abitanti che forse l'1% legge Come fanno a ricordarsi del nostro cognome? E allora bisogna dargli la possibilità che quando uno entra in una libreria Ah aspetta ma quello è Forse è quello della farfalla o è quello del cobra È quello degli animali È quello degli animali E allora c'è l'azione captive Captive immediatamente Ecco E qua E qua Perdonate ma qui E qui l'economista salta fuori Questo come si chiama? Benchmarket? Qualcosa del genere? No forse il latino chiamavano pecuniano no let Pecuniano no let però questa faccenda di avere il trigger e farsi riconoscere per mi piaceva Mi piaceva e l'abbiamo detta, l'abbiamo spiegata e ci piace moltissimo Vogliamo dire qualcosa dei precedenti? Ci sono gli stessi personaggi? Poi ci dedichiamo al ragno I personaggi sono sempre gli stessi Quelli ovviamente di riferimento, cioè gli investigatori, questo gruppo di personaggi che fa capo all'arma dei carabinieri Poi c'è un personaggio un po' particolare che è la moglie di questo nostro investigatore che è il capitano Petrone Che è una psicologa francese che ha un suo fascino Che aspetta se ne ha Inevitabilmente Esattamente Il quale anche se invita il suo consorte a non portare la tragedia, il tormento delle sue indagini in casa Però inevitabilmente è quale che poi chissà perché Butterà il sassolino e improvvisamente nel patchwork dei tanti posti gialli che sono appiccicati in questa parità dell'ufficio del capitano Petrone Petrone, tasce la scintilla e via Si scopre l'assassino Che non è il maggior domo, ricordatevi Anche perché l'ambiente, il brodo primordiale di... Quanto meno il tocco del ragno, io ammetto di aver letto soltanto questo e non i precedenti Anche se adesso devo assolutamente riempire la lacuna Grazie Però è tutt'altro che la cucina della casalinga di Voghera Qui Francesco ha spaziato veramente fino alla spy story Si può dire o ci arrabbiamo? E tu non hai letto i precedenti ma questo è un po' diverso Perché proprio ha un po' di spy story, è vero A un certo punto dovevo dare un cambiamento sottoscritto con la penna Di fronte a quel foglio bianco Che oggi non è un foglio ma è un video terribile Ci attaccherai i post-it, via, fai come Petrone Esatto Hai questo improvviso video dove tu dovresti battere su una tastiera E la prima parola, non so se tu ti ricordi di questo romanzo è Buio, punto, a capo Perché? E perché quel giorno era buio Nella mia mente non c'era nulla E da lì è iniziata un cambiamento improvviso Ho iniziato un cambiamento improvviso Ho pensato di fare una spy story Ma come sarebbe iniziata e dove si sarebbe sviluppata e come sarebbe finita Era buio E quindi è vero, è vero Questa è una spy story un po' divertente, un po' simpatica Se mi permetti di dire un po' romantica Altro che, altro che, ma certo, no no, assolutamente Poi ci arriviamo a parlare delle donne di Otasso A parte Genevieve di cui abbiamo già detto il giusto Già il fatto che in italiano sarebbe Genoveffa E invece nella sua lingua madre Genevieve Già vi fa capire che differenza sottile di forma Di forma, ma che Francesco ha dato l'elan più charmana al suo personaggio Allora, però mi interessava ancora un pochino rimanere sui precedenti, Francesco Quindi dicevi, c'è Petrone anche negli altri? C'è Petrone anche negli altri C'è tutto il suo staff di collaboratori Dal brigadiere, l'appuntato Anche c'è questo appuntato stranissimo Che è un informatico Che va in giro nella caserma vestito Nelle maniere più strane Non so, con una baglietta Con su scritti Oggi è venerdì, non ne posso più Piuttosto che con le Dottor Martins Senza i lacci Con dei pantaloni E poi ha l'intuizione La capacità di essere Un white hat Un black hat Cioè è colui che ha il piacere di entrare in sofisticati modi di software Più sconosciuti Nelle maniere più, magari, violente Perché ruba i segreti Ma non li viola Li ruba i segreti solo ai fini che possono essere utili per scoprire la verità È il cosiddetto hacker buono, no? Esattamente Che magari in passato è stato un hacker punto Ma che poi si è risciacquato in arno Sicuramente, sicuramente Un po' come ha fatto Anonymous Se ve lo ricordate Quello che appare con quella maschera bianca Anonymous è nato hacker da Deep E adesso invece è decisamente un white hat Quindi la squadra sostanzialmente Sostanzialmente la squadra È presente nelle altre storie E poi dopo c'è un variegato mondo di personaggi Che in alcuni casi sono stati richiamati In uno o due altri romanzi Poi sono spariti perché hanno cambiato vita E quindi il mondo dei personaggi che gira attorno È sempre imbutevole E cambia Mi hanno detto che io parlo E inserisco come tu forse hai già accennato Di donne Non so, io ho una marea di donne Ma non sono state le donne nella mia vita Io ne ho solo tre di donne nella mia vita Mia moglie e i miei due figli Eh, che calma ragazzi Eh, caspita, le oddassine Un saluto da parte di Riesolto Giallo La tua famiglia Grazie Le donne di questo romanzo Di questo, degli altri non parlo Non so Le donne di questo romanzo Sono molto aggressive Sono molto volitive Sono molto addestrate Anche ad essere fisicamente Possenti Quindi tu E non una sola Più d'una Hanno queste caratteristiche Come se tu Avessi pensato Un po' a riscattare Il La figura femminile Il mio genere Sì Perché in questo romanzo A parte Genevieve Che, come dicevamo prima È la La Première femme Del romanzo E aleggia su tutti noi Con un flutto di champagne in mano Le altre I teleimmagini In mimetica Con sotto il tanga di pizzo Con la frusta in mano Perché Almeno una È una domina Che cosa era successo Dopo quel buio Francesco No Perché io devo dire Che Non per piageria Assolutamente Ma Noi Maschietti Siamo considerati Il sesso forte Non è vero Assolutamente È tutto esattamente Il contrario Le donne Che io ho conosciuto Nella vita Nel mondo del lavoro Sono molto più Determinate Coscienziosi Abili Fantastiche Noi uomini Cosa facciamo Pensiamo soltanto Che ci sia Una strana cosa tonda Che si chiama pallone E tutto li finisce Beh ma tu Non soltanto Le hai rese Autonome Le hai proprio Come dire Le hai scatenate Queste qui Da una all'altra All'altra ancora Ma Perché è vero Perché è vero Perché anche in questo Strano mestiere Che lì viene richiamato Perché si dice proprio Chissà se fare la spia È un mestiere A un certo punto Tra le pagine Ma le donne Hanno molto più Capacità Abilità Di un James Bond Perché? Perché hanno le armi Di essere donne Quindi al di là Magari della capacità fisica Ma vuoi mettere con me Noi baschetti Di fronte A due occhi Che ci guardano Un sorriso Non ci sciogliavo Ecco E quindi Le ho Messe Proprio con questa intenzione Cioè Quella di dare Alla donna La figura Che è effettivamente Quella che esiste Su questo mondo Quindi al di là Del fatto Che sia una spia Che possa essere Allenata Ad azioni violente Però Nel cuore Sono donne Sono donne Che si innamorano Sono donne Che sono gelose Molto Sono donne Poi sono donne Anche romantiche Perché Se mi permette Di fare Un passo Avanti I miei cattivi Non sono poi Così cattivi Hanno fondamentalmente Qualcosa di Come dicevamo prima Di romantico Dentro Dentro di sé Magari la vita Il mestiere Gli obbliga Ad essere così Però fondamentalmente Anche loro hanno i sentimenti Che è una cosa importante Ecco Perché Come dicevano I latini Nil volenti Difficilest Io me la sono Proprio appuntata Sull'agenda 2024 Così come frase Per iniziare bene L'anno Della serie Alessia Cioè Prenditi Degli obiettivi E picchia duro Perché ci riusciamo Una caratteristica Andiamo alla Alla forma Della tua scrittura Al metodo Una caratteristica Che È molto piacevole Grazie Forse Più per la Generazione Mia E tua Magari I più giovani Stenteranno A riconoscere Certi riferimenti Sono le citazioni Cinematografiche Sì Di cui tu Sali Spesso Le tue pagine Sono Precipitati Di una tua passione Cioè Sei tu Il cinefilo Che quindi Ama Ricordare Determinate Scene Sono un appassionato Come tu Hai Visto Per esempio Della saga Di James Bond Punto uno Che spesso Viene richiamato Ecco infatti Quando Nel Questi personaggi Così pensano Casualmente Il riferimento Non può che essere lui Ecco Piuttosto che Magari Qualche Riferimento Anche a qualche Canzone Non lo so Ah sì Ci sono Testi citati Virgolettati Esattamente Ecco Perché Sono due passioni Che sono sempre Nel mio cuore Ovviamente In quel periodo Gli anni James Bond È nato negli anni Sessantatré Però negli anni Settanta Così con La fine Di Swan Connery Con l'inizio Di Roger Moore È stato l'apice Di Broccoli Con questo personaggio E poi Le canzoni Negli anni Settanta Perché secondo me La musica La poesia L'armonia Di quelle parole Di quelle canzoni E Mi spiace Per L'igenerazione di oggi Non ci sono Tant'è che io mi accorgo Che ascoltano Proprio Quelle canzoni Guardano Quei film Perché Non sono Particolarmente Violenti Hanno Fondamentalmente Dei principi All'interno Di essi Perché È una cosa Che sempre Mi è stata detta Da Qualche personaggio Del clero Che Quando Si scrive Qualunque cosa E poi Si tramutano In immagini In suoni Si danno Degli insegnamenti E quindi Bisogna stare Molto attenti Perché Un'immagine Un suono Una parola Rimane lì E forse E forse pure La fantasia Non è da riportare Nella realtà Del giorno In cui noi Ci alziamo La mattina Ci guardiamo Allo specchio E quindi Sai Diventa difficile Prendere la penna Oppure Scrivere le note Piuttosto che Delle parole O prendere Una macchina Fotografica E dire a degli attori La scena Si deve svolgere In questa maniera A proposito di scene Adesso ti dirò Una cosa Che farà morire Da ridere te Ma soprattutto Il nostro regista Perché non gliel'avevo Mai raccontata Dimmi un po' Sai che ho fatto La comparsa In un film Di 007 Ah E vabbè Il regista Sta ridendo In maniera Non proprio Rispettosa E no 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 Invito tutti e due A riprendere Quale? Solo per i tuoi occhi Ah Quello che si svolge A Cortina E certamente Perché devi sapere Che io Avevo in me Non ce l'ho più Un nonno cortinese Quindi io andavo A Cortina Tutte le sante vacanze D'inverno D'estate E mi trovavo Al palazzo del ghiaccio Certo Assieme a mia sorella E due nostre amiche Proprio il giorno Che giravano La famosa scena Della pattinatrice Che ricorderai Benissimo Poi c'è una scena Al bar Ebbene Se fate Il fermo immagine Mentre la Che era una campionessa Realmente Salita al podio E indosso Prima di attenti a quei due Attenti a quei due Impazzivo io Guarda Per anni ho avuto Come suoneria Del cellulare tornando a noi vado da Roger a chiedergli l'autografo con il mio blocchetto delle holly hobby perché si ricorda chi fossero le holly hobby erano quelle col cappellone identiche a me e lui mi dice si toglie il sigaro di bocca e mi dice yes darling con una pronuncia così inglese così inglese quindi io sono dell'idea e sono d'accordo con te se tu mi dici che il vero 007 di tutta la saga di tutte le interpretazioni di tutti quelli che ci sono stati primi e dopo e ci saranno in futuro è lui perché se a te disse oh darling a una gentile signora che era al mio fianco mentre lui stava pagando dei giocattoli per una delle sue bimbe della moglie italiana che ebbe a suo tempo quando questo signore lo guardava negli occhi innamorata e gli fece la domanda ma lei fa dei film e lui in perfetto italian english dice oh yes ogni tanto ma questa cena dove avveniva? a rapallo se la girava era un personaggio così perché era veramente così quindi quando recitava non faceva faticare perché era così era così con quella sua humor inglese ecco dai 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 un'altra caratteristica torniamo al ragno un'altra caratteristica beh molto 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 rilevante perché perché non accade spesso soprattutto non nei gialli è questo ricorso frequente a termini molto ricercati della lingua italiana? beh sai io purtroppo ho avuto sempre il vizio di scrivere quando ho finito l'università facevo da oggi si usano dei termini inglesi da scrittore fantasma usiamo dei termini italiani per un docente così non dico il nome e il cognome che doveva scrivere per alcune testate economiche e quindi li scrivevo io per conto e ovviamente bisognava scrivere negli anni 80 in una certa maniera poi dopo con la permanente col cocktail di gamberi nel pompello sì anche con i capelli cotonati con le spalline esatto e quindi bisognava cercare dei termini di un certo tipo che non si ripetessero nel tempo perché se no e quindi mi è rimasto questo poi dopo anche quando ho fatto dalla scuola di formazione all'interno di un'azienda di istituto di credito dove ho lavorato e poi dopo nelle mie lettere d'amore che ho scritto a mia moglie e poi qui insomma in queste pagine dove tu stai facendo un'osservazione che mi ha fatto simpaticamente la mia editor Elena ciao Elena donna fantastica meravigliosa unica che mi vuole un bene e mi dice anche che delle volte scrivo delle cosucce che bisognerebbe non scrivere perché sono un pizzico pepate è un po' è vero c'ha ragione c'ha ragione c'ha ragione va bene e che un giorno mi disse guarda che in questa pagina hai scritto due volte compagno in 35 righe due volte compagno non si fa Francesco a me venne venne spontaneo di dirgli benissimo sostituiamolo con una delle due con sodale lei sgranò due occhi così e mi disse ma chi mai capirà questa parola e però è un sinonimo di compagno ma a me venne spontaneo qui è un certamente ricercato ma ce ne sono delle altre più terribili io me le sono segnate dai dimmi colpisci allora no devo dire ammetto che una l'ho dovuta cercare io anche mi picco di essere una che ama molti sinonimi e che parla bene però questo subsannare non la conoscevo e sono andata a cercarmela ma il nostro Francesco ci usa rutilanti straripante obnubilati lupanare a propinquarsi che mio padre adora come parola di buzzo buono insomma qua è una grammatica latina quasi ma sai gli studi classici li ho fatti a Roma no sono venuto a fare la maturità a Milano perché mio padre è stato trasferito a Milano essendo amministratore delegato di un'importante azienda eccetera eccetera e quindi mi disse caro tutti si trasferiscono a Milano devi venire a fare la maturità ah dico benissimo ecco presi 39 39 però sì 39 che allora era 60 sessantesimo il massimo certo anche io sono di quella generazione 39 39 perché mi disse il professore che ci seguiva la maturità che io ho fatto un tema in italiano che aveva stupito che t'hanno punito commissione commissione no ma mi salvò il tema italiano perché ah perché era il resto il resto no la versione di greco avevo preso tre tu sei capitato con uno dei pochissimi anni del greco del greco che poi tra l'altro questo me lo ricordo perché venne anche scritto sui giornali allora c'era la notte il corriere di informazioni giornali che uscivano nel pomeriggio che il ministero dell'istruzione si scusava perché chi aveva avuto il compito di dare la versione per la maturità classica aveva sbagliato perché aveva preso la fine di un capitolo e l'inizio di un altro pertanto chi conosce il greco sa benissimo che nel greco c'è un verbo che dà il senso a tutto e qui lì non si capiva perché era un verbo che finiva un capitolo e quello successivo ce n'era un altro che cosa voleva dire e quindi era il brano di chi questo non mi ricordo guarda mi ricordo solo questa cosa allucinante per cui io presi il vocabolario scrissi la traduzione di ogni parola tanto per vedere che avevo fatto la fatica no ma vi rendete conto lui ha fatto il rocci a pezzi allora io sono iscritta a una pagina facebook che si intitola quelli del rocci che ogni giorno ogni giorno pubblica una parola greca a volte semplicissime a volte un pochino più complesse perché così mi tengo in allenamento in realtà me ne ricordo sempre di meno però però mi rendo conto che chi ha questi ricordi della maturità poi alla fine li tira fuori li tira fuori è inevitabile belli o brutti che siano io ricordo una versione di greco dove c'era un famigerato console che con un ampio cenno del braccio aveva mostrato qualcosa noi 30 eravamo in classe abbiamo usato 30 parole diverse e solo quello che ha avuto la fortuna di avere le insegne in sorte si è preso la sufficienza tutti noi no il tempo tiranno il tempo tiranno dunque allora saluti ai risultisti saluti a tutti voi che ci state ascoltando e l'ultima parola al nostro ospite ragazzi io vi posso e ragazze chiedere soltanto questo comprate i miei romanzi perché questo lo posso dire semmai poi verrà tagliato ovviamente tutti i miei diritti d'autore e tutte le mie presentazioni che io faccio in giro per l'Italia e non solo vanno a contribuire a far sì che vengano fatte le borse di studio per i ricercatori italiani del campus biomedico di Roma dei ragazzi fantastici dove ci faremo con l'Alessia una trasmissione per dire cosa si inventano si sono inventati il cane anti-covid la mano bionica tattile non prensile il cane che quando tu vai a farti una visita non ha bisogno di leggere le analisi perché annusandoti sa se tu stai bene o non stai bene ragazzi quindi non dovete pensare che fate un favore a me ma fate felici questi ragazzi che così rimangono nel nostro paese e noi non importeremo più l'intelligenza dagli altri mondi grazie 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 Francesco grazie Alessia grazie a te quanto c'è di giallo nella vostra vita? e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? scopritelo con noi ha risolto giallo